Ciao a tutti, allora eccomi qua, sono ritornato, come sapete, dopo un mese di esperienza lavorativa a Jesolo e sono pronto per ricominciare. Come quelli che mi seguono su Facebook, Twitter o Instagram sapranno già, mentre ero via è successo qualcosa riguardante Papa Francesco, che ha avuto una risonanza mondiale. Allora, Papa Francesco ha incontrato alcuni genitori di figli LGBT, quindi omosessuali per esempio, dell'associazione Tenda di Jonata, un'associazione che promuove l'accettazione dei vari orientamenti sessuali all'interno della chiesa. E cosa ha detto a questi genitori? Ha detto i vostri figli sono amati profondamente dalla chiesa per quello che sono. Quindi a prima vista uno direbbe, beh, ma è una frase positiva, è una frase che testimonia ancora una volta la rivoluzione di Papa Francesco, il suo spirito di cambiamento, no? Ma siamo sicuri che sia proprio così? Allora, andiamo ad analizzare puntualmente tutte le volte che Papa Francesco si è espresso sul tema omosessualità, così ci facciamo un'idea accurata. Allora, innanzitutto questo video sarà breve, cioè non sono molte le affermazioni. In tutto il suo tempo, in tutto il suo incarico, Papa Francesco si è espresso soltanto quattro volte sul tema omosessualità, la maggior parte delle quali non è lui che si è espresso, ma sono altri che gli hanno fatto alcune domande. Iniziamo per esempio dal luglio 2013. Siamo in un aereo, Papa Francesco sta tornando da Rio de Janeiro a Roma e dei giornalisti gli fanno alcune domande sul tema. E Papa Francesco risponde... Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Allora, anche in questo caso non si tratta di una condanna, è vero, ma non si tratta nemmeno di un'affermazione positiva. Si tratta semplicemente di un alzare le mani, di dire, beh, ma chi sono io per giudicarlo? Quasi come un'astensione dal giudizio. Lui invece che dovrebbe essere il primo a dare, insomma, delle direttive chiare. Perché ci sono milioni e milioni di persone in tutto il mondo che pendono dalle sue labbra. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti e passiamo al 28 agosto 2018. 28 agosto 2018 in cui Papa Francesco, sempre su questo tema, prendo l'articolo così sono preciso, dice In quale età si manifesta questa inquietudine del figlio? Ecco, già il fatto che lui dica che l'omosessualità è un'inquietudine, insomma, ci fa un po' arricciare il naso. Una cosa è quando si manifesta da bambino, cioè, ci sono tante cose da fare con la psichiatria o per vedere come sono le cose. Un'altra cosa è quando si manifesta un po' dopo vent'anni o cosa c'è, no? E anche qui molti a interpretare. Ho sentito alcuni ragazzi mi hanno scritto Ma lui sta semplicemente dicendo che bisogna rivolgersi a uno psichiatra per l'accettazione dell'omosessualità. No, non è questo il senso di Papa Francesco. Dice chiaramente che un conto è quando l'omosessualità si verifica in età giovane, aperta parentesi, in cui c'è ancora possibilità di cambiamento, c'è ancora qualcosa che possiamo fare con la psichiatria. Psichiatria, ricordo, non è psicologia. Psichiatria indica l'uso anche dei farmaci. Quindi o Papa Francesco non sa bene l'italiano oppure è anche ignorante in campo medico oppure crede che l'omosessualità possa essere curata con dei farmaci. Un'altra cosa è quando si manifesta dopo i vent'anni, aperta parentesi, allora se è una cosa radicata, purtroppo non possiamo farci niente. Purtroppo. Questo è il senso del discorso di Papa Francesco. Se possiamo recuperarlo, bene. Altrimenti, altrimenti, dice Papa Francesco, dobbiamo amarli così come sono. Ma quando dice che dobbiamo amare gli omosessuali, dice anche che dobbiamo aiutarli, avere compassione, ascoltarli, dialogare con loro. E anche quando dice che se viene meno il dialogo, viene meno la maternità e la paternità. Questa è una cosa bellissima. Cioè un padre e una madre, in quanto tali, devono affrontare questa questione con il dialogo. Altrimenti non sono madri o padri. Allora, da una parte questa è una cosa bellissima, perché in effetti il dialogo è di primaria importanza. Ci sono molte famiglie in cui, quando un figlio decide essere omosessuale, i genitori si voltano dall'altra parte o non rivolgono più a lui la parola. Quindi, benissimo Papa Francesco che ha richiamato l'importanza del dialogo. Questo è da notare. Ma ne parla sempre come se fossero delle persone delle persone, insomma, dei poveretti, delle persone di cui dobbiamo avere pena, che dobbiamo aiutare. Ma in nessun caso dice che il comportamento omosessuale è, insomma, legittimo. Ma passiamo allora al 2 dicembre 2018, in cui, attenzione, Papa Francesco dice che Poi, attenzione, Papa Francesco è chiarissimo riguardo l'omosessualità di sacerdoti o di suore. Nella vita consacrata e in quella sacerdotale non c'è posto per questo tipo di affetti. Per questa ragione la Chiesa raccomanda che le persone con questa tendenza radicata non siano accettate al Ministero né alla vita consacrata. Il Ministero o la vita consacrata non sono il loro posto. Su questo è chiarissimo. Poi c'è sempre questa immagine di una tendenza radicata, come di un'abitudine che si radica e che si sradica. E quindi arriviamo al punto di partenza con cui ho aperto il video. Perché ciò che Papa Francesco ha detto ai genitori di figli LGBT non mi è piaciuto per niente? Perché secondo me è un atto gravissimo e di gravissima ipocrisia? Perché questa stessa persona che ha detto che l'omosessualità è una moda, che ha detto che se avviene da piccoli allora andrebbe invocato l'aiuto della psichiatria, questa stessa persona poi quando guarda in faccia questi genitori anziché dirgli, dire loro queste cose, gli dice che la Chiesa li accetta così come sono. Allora questa è una grande ipocrisia per quanto abbiamo appena visto ed inoltre per un secondo motivo perché nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è scritto chiaramente che l'omosessualità è una condizione oggettivamente disordinata. Oggettivamente disordinata. Allora caro Papa Francesco guarda questi genitori e dia loro che i loro figli hanno una tendenza oggettivamente disordinata perché questo è quello che pensa la Chiesa. Tu sei il capo della Chiesa, non puoi dire diversamente da quanto c'è scritto in ciò che costituisce le fondamenta della Chiesa che tu rappresenti. E poi anche per un terzo motivo perché tutte quelle persone che sono omosessuali e che decidono di essere casti perché credono in Dio e quindi decidono di non dedicarsi al comportamento omosessuale allora tutte queste persone quando ascoltano questa frase di Papa Francesco come ci rimangono? Cioè dicono ma allora tutto questo nostro impegno tutta questa nostra fatica che senso ha se il Papa dice che Dio ci ama così come siamo ma in che senso? Ecco quindi vedete una persona secondo me ipocrita e ambigua altro che rivoluzionaria e anche ignorante ci aggiungo anche ignorante perché se tu non sai che cos'è l'omosessualità ti informi chiami alcuni scienziati leggi alcune riviste ti informi non dici che è una tendenza radicata che si può sradicare con la psichiatria eccetera o che è una moda Concludo il video con alcune bellissime parole di un giornalista Fabiano Minacci Questa volta non me la sento di attaccare il pontefice che è sicuramente meno duro di tutti i suoi predecessori verso le comunità LGBT L'omosessualità è una moda? Certo che no e qui Bergoglio sbaglia ma è anche vero che è normale che non sia così aperto verso gli omosessuali che vogliono diventare sacerdoti Sappiamo tutti benissimo cosa c'è scritto sui sodomiti nei testi sacri su cui è fondata la religione cattolica e io direi qua no, non è vero non lo sappiamo benissimo Così come è chiara la linea della chiesa verso l'omosessualità no, non è chiara la linea della chiesa verso l'omosessualità andate in giro chiedete e sentirete di quelle idee ecco Francesco è coerente dovremmo esserlo anche noi smettendo di cercare approvazione e conforto in un'istituzione che non ci ama e nei secoli ci ha ucciso discriminato e torturato ecco dunque quando mi parlano della rivoluzione di Papa Francesco di questo spirito di rinnovamento io veramente ho difficoltà a capire di che cosa si sta parlando grazie a tutti Grazie a tutti.